Molti sono convinti che ormai la fine del mondo è imminente. I Mai effettivamente l'avevano predetta per il 2012, ma a quanto pare siamo ancora tutti qui e quindi forse c'è stato un errore. Addirittura si pensa che l'errore sia stato di trascrizione, che anziché 2012 volevano scrivere 2021, quindi adesso. Sì, però nella storia sono state tantissime le persone che hanno predetto la fine del mondo, senza che questa si realizzasse. E non erano solo fanatici, creduloni, indovini, eccetera. Perché nell'elenco risulta anche Gesù. E di fatti, verso la fine del Vangelo di Marco, dirà testualmente che il sole si oscurerà, che la luna si spegnerà, che le stelle cadranno come meteore e che tutto il cielo sarà sconvolto. Praticamente Gesù parlava dell'Apocalisse. Eppure, ancora una volta, siamo ancora tutti qui e della fine del mondo non c'è traccia. Che significa? Che pure Gesù si è sbagliato? Beh, stiamo molto calmi perché quando Gesù parla non lo fa a bambera. Diciamo che quando ha detto queste cose Gesù si riferiva alla generazione di quel tempo. Ma siccome le sue parole non passeranno, questo vuol dire che parla anche alla nostra generazione. E che ci dice? Ci dice che lo sconvolgimento del cielo non deve essere per forza astrale. Perché basta guardarci un attimino dentro e ci rendiamo subito conto di quanto il nostro cielo interiore è già sconvolto di suo. Con episodi improvvisi, dolorosi e spaventosi. Infatti, nella tua vita, quante volte il sole si è oscurato? Quante volte la tua luna, unica luce che illuminava il tuo augurio, si è spenta? Quante volte le tue stelle, cioè i tuoi punti di riferimento, sono caduti e tu ti sei sentito smarrito? Questi sono i momenti in cui la nostra vita, prima ancora del mondo, è veramente sconvolta. Ora, se Gesù si fosse fermato a queste cose, la nostra paura sarebbe soltanto ammettata e noi saremo praticamente morti senza speranza. E invece è proprio in quel momento che arriva il bello. Perché Gesù stesso dirà che sarà proprio quello il momento in cui il figlio dell'uomo finalmente si farà avanti con potenza. Perché quello che tu chiami tempo d'angoscia, lui lo chiama tempo di salvezza. Tu magari sei concentrato a tenerti a tutti i costi il tuo cielo e la tua terra vecchi, cercando di accendere il sole e la luna, o di rimettere a posto le stelle. Ma ti perderai solo in ansia e inutili, perché è proprio in quel momento che Dio sta arrivando con un nuovo cielo e una nuova terra per te. In altre parole, impariamo dal fico, che quando comincia a mettere le foglie verdi sappiamo benissimo che l'estate è vicina. Anche noi, quando vediamo che nella nostra vita non funziona più niente, quello è il segno che Dio è più vicino del solito. Anche noi, quando vediamo che la nostra vita non funziona più niente, quello è il segno che Dio è più vicino del solito.